Ciao a tutti, qui Nezvan Banorst e Iuri Pirondi. Siamo molto onorati di ricevere questo premio e disolati di non essere lì con voi. Quando abbiamo sentito parlare di questo festival abbiamo voluto partecipare a tutti i costi. Adoriamo la narrazione poetica e soprattutto quando è abbinata all'arte cinematografica. Adoriamo il tema del vostro festival che è a vedere col borgo e di come vedere il borgo in un altro punto di vista. Infatti gli antichi borghi in un certo senso sono l'anima dell'Italia. Proprio lì si trova custodita l'essenza della nostra storia. Anche noi dopo aver vissuto una decina d'anni in una città, una megalopoli enorme come Londra, ora ci siamo trasferiti su un borgo di 5 o 6 famiglie sull'Appennino Emiliano. E appunto borghi, nel nostro film parliamo di un borgo che è Civita di Bagnoreggio e Civita. Il borgo che è definito il borgo che muore. Infatti le falesie stanno crollando ai lati del borgo lentamente. E questo può essere visto come una metafora. Quindi dobbiamo davvero proteggere e ripensare ad un patrimonio che si sta lentamente dissolvendo. Proprio per questo sono molto importanti iniziative come la vostra, come questo festival. Mostrare al pubblico presenti non solo che attraverso delle opere d'arte come la poesia e il cinema si possa ideare un borgo 2.0, meno remoto e più vicino alle persone. Grazie ancora per aver premiato il nostro film. Un caldo abbraccio. Grazie.